nome giulio simone chi sei uno degli istruttori del bakery basket city camp sarò uno degli istruttori del bakery basket city camp 2017 dove si svolge il bakery basket city camp presso l'area sottomura piacenza il bakery basket city camp si svolge in via 4 novembre a piacenza quando si svolge il bakery basket city camp ultime tre settimane di giugno le settimane organizzate sono tre abbiamo la prima settimana che va dal 12 al 16 di giugno la seconda che va dal 19 al 23 di giugno e la terza dal 26 al 30 di giugno cosa si fa il bakery basket city camp organizzeremo tante attività all'aria aperta e addirittura un giorno andremo in piscina al city camp si trova prima di tutto tantissimo divertimento le attività sono organizzate alla mattina e al pomeriggio e si fanno attività multi sport e vengono organizzati principalmente giochi gare tornei come ci si scrive compilare modulo sul nostro volantino che sta girando per tutta piacenza o che trovate su internet su facebook o sul nostro sito internet www.beckerybasket.it sul volantino distribuito in tutta la città si possono trovare i numeri di giulio e simone che sarei io contattandoci telefonicamente ci si può iscrivere o richiedere anche informazioni